Fulmine a ciel sereno in casa Sandro Abate. Con un comunicato stampa seguito poi da un videomessaggio del coach brasiliano, il club irpino comunica la separazione con il tecnico carioca Marcello Batista. Alla base del divorzio ragioni di carattere strettamente personali. Infatti, il mister dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico, che lo costringerà a stare lontano dal parquet per circa tre mesi. Con enorme rammarico, l'allenatore ha dovuto rinunciare all'incarico che, con fiducia ed entusiasmo, la Sandro Abate gli aveva affidato anche per la prossima stagione. La nota della società velinese si conclude con ringraziamenti di rito a mister Marcello Batista, che nonostante sia stato pochi misi alla guida dei lupi del futsal, gli è stato riconosciuto da tutti il senso di appartenenza, di dedizione e di impegno nello scorso campionato ed anche nel difficile periodo dell'emergenza Covid, il coach è stato sempre sul pezzo. Per il possibile sostituto si parla con insistenza dell'ex tecnico della fel di Eboli Francesco Cipolla, anche se l'EDS Andrea Candeloro starebbe vagliando una nuova e suggestiva pista straniera.